Cosa avviene prima del design in classico? Siamo partiti da questa domanda per creare la nostra mostra evento, senza però soffermarci su un gusto classico ormai consolidato, ma piuttosto scoprendo le sue molteplici possibilità di essere attualizzato. È una sfida molto interessante e ha voluto in qualche modo decontestualizzare il mobile classico con la sua ricchezza, col suo manierismo, per portarlo ad un livello senza tempo. Quindi abbiamo voluto in qualche modo reinterpretare diversi spazi del vivere quotidiano andandoli ad arricchire con elementi fortemente ispirati all'arte contemporanea. Devo dire che la mostra è stata una bellissima esperienza e ha voluto di nuovo sottolineare come ogni epoca ha una sua idea di classico. E credo che nel 2016 abbiamo voluto con un gusto, con un manierismo, con un'accortezza portare questo senso di contemporaneità a un mobile che spesso è stato considerato come un elemento che appartiene al passato. Da qui l'idea di voler utilizzare Matteo Garrone. Matteo Garrone, che è un importante regista italiano, ha un'estetica decisamente particolare. La sua filmografia, che conosciamo, è decisamente realista, talvolta molto cruda. E questa è stata la vera sfida, voler utilizzare la sua estetica per poter andare a interpretare un nostro progetto. è stato come un Ohocciolo gallo. Grazie a tutti.